Numeri che non possono rimanere silenti. Il reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale San Salvatore sta facendo molta chirurgia oncologica usando i robot e sta diventando un vero punto di riferimento nella chirurgia laparoscopica e robotica sia come patologia oncologica che benigna. Il professor Maurizio Guido, primario del reparto, ha allussato le nuove tecniche di chirurgia oncologica dell'apparato riproduttivo femminile effettuate con chirurgia robotica. Uno dei chirurghi di punta, il dottor Matteo Bruno, sono tecniche che sono poco invasive. Noi abbiamo iniziato questa attività quasi due anni fa. La chirurgia ginecologica si basa al 75-80% su una chirurgia mininvasiva e quindi è una chirurgia laparoscopica o robotica che all'Aquila era ancora un po' lenta a crescere. La nostra attività negli ultimi 18 mesi ha portato dei numeri importanti sia sulla patologia benigna che sulla patologia oncologica. Quindi cominciamo ad avere un'attività di routine chirurgica di questo tipo che significa soddisfare non solo qualitativamente l'utenza ma anche da un punto di vista di qualità della vita, di prendere la propria attività in pochissimi giorni ed avere la possibilità anche esteticamente di avere un impatto praticamente quasi nullo da questo tipo di chirurgia. E questo è il futuro, è il presente per molte realtà ed è sicuramente il futuro dell'Aquila. C'è uno sforzo anche aziendale anche per quanto riguarda la tecnologia futura e speriamo di continuare in questo modo. Il professor Guido ha una sorta di programma di mandato, l'Aquila per donna, la salute declinata al femminile, un progetto che ha il programma come ginecologia ostetricia, un progetto ambizioso sul quale si deve lavorare ancora tanto. A settembre intanto la squadra si incrementerà con una professionista prestigiosa, la dottoressa Laria Fantasia, che è una delle dieci top player che si occupa di diagnosi prenatale. Il reparto c'è anche un'altra eccellenza grande, la professoressa Manuela Ludovisi, esperta internazionale di ecografia ginecologica. Il reparto punta dritto all'eccellenza, per quel che riguarda i parti però i numeri devono crescere. Il numero dei parti è stabile, è un numero dei parti che chiaramente non ci soddisfa perché siamo intorno a 780-800 parti. Il nostro obiettivo è arrivare, ritornare a dei livelli che l'Aquila merita, quindi almeno mille parti. Per fare questo c'è un lavoro molto complicato, multidisciplinare, che deve riguardare noi, deve riguardare una squadra ostetrica di alto livello e una collaborazione con gli anestesisti che possano garantire una partonalesia H24 nella nostra sala parto.